Importante vittoria, anche se prevedibile, del Real Sant'Agata nella trasferta di San Marco, penultima in classifica, per 2-1 con il Real Sant'Agata che chiude la partita subito nel primo tempo, anzi con il gol di Cesai alla trentanavessima, raddoppia poi nel secondo tempo alla settantanavessima con Cordari. E poi viene soltanto segnato il gol della squadra di casa del San Marco alla novantaquattresimo da Provenzano. Dicevamo importante vittoria per la squadra in trasferta che ne approfitta del pareggio tra le due prime della classe, tra Praia Tortore e Belvedere, per accorciare in classifica. È vero che sia l'Acri che il Real Sant'Agata, pur vittoriose, si trovano ancora a una certa distanza dal trio di testa, però con gli scontri diretti si potrebbe pensare che anche questo campionato possa riaprirsi per la lotta a vertice, anche se obiettivamente dobbiamo riconoscere, come abbiamo sempre sostenuto, che Rossanese, Praia Tortore e Belvedere probabilmente hanno qualcosa in più di queste squadre. Però certamente bisognerà cercare di lottare fino alla fine per evitare che ci siano i famosi dieci punti di distacco e quindi non partecipare nemmeno ai play-off. Intanto il Real Sant'Agata si gode questi tre punti trovati in trasferta.